Ben ritrovati a Torino Web News, ultimo appuntamento dell'anno 2014 per quanto riguarda queste nostre edizioni con gli appuntamenti della settimana in città, torneremo poi dopo la pausa natalizia e di fine anno nel gennaio dell'anno prossimo. La segnalazione con cui partiamo quest'oggi è quella di martedì 16 dicembre alle ore 21 al Cinema Baretti, la rassegna Portofranco porta sul schermo il film Infedele per Caso, un film di Joshua Pignanesi che qualche anno fa è passato anche al Torino Film Festival, una commedia molto divertente che racconta la storia di Mahmoud, musulmano residente a Londra che scopre a un certo punto di essere stato adottato e di essere in realtà ebreo, biglietti che vanno come sempre da 3 a 5 euro spettacolo alle ore 21. Per la serata di mercoledì 17 invece vi segnaliamo un appuntamento con il balletto perché alle 20 al Teatro Reggio ci sarà il balletto nazionale di Cuba con sulla scena la splendida Alicia Alonso che ci porta una sua coreografia della Giselle di Adam, biglietti che sono in vendita alle casse del Teatro Reggio poco prima dell'inizio dello spettacolo. Giovedì invece un altro consiglio cinematografico, questa volta al Cinema Massimo 3 come sempre con la rassegna dei film in lingua originale sottotitolati in italiano verrà proiettato La spia ovvero Most Wanted Man di Anton Corbyn, un film di qualche anno fa di produzione inglese, la storia di Melike e di sua madre che sono dei turchi residenti a Damburgo che ospitano il giovane Issa e da lì scatenano reazioni nell'intelligence di diversi paesi. La proiezione è fissata durante tutto il corso della giornata, il prime time è alle 20.30. Per la serata di venerdì 19 dicembre invece un altro appuntamento teatrale, questa volta con il musical alle Fonderie Limone a Moncalieri alle 20.45, uno spettacolo che fa parte della stagione del Teatro Stabile, si tratta di Spring Awakening tratto dall'omonima opera di Wedekind, qui viene portato sulla scena per la regia di Emanuele Gamba. Sabato invece ultimo appuntamento che vi segnaliamo in questa edizione, sabato 20 dicembre alle ore 21 alla Casa Teatro Ragazzi, ci sarà l'ennesima replica di uno spettacolo che da oltre 30 anni diletta i ragazzi di tutto il mondo, si tratta di pigiami che potrete vedere con biglietti che vanno a partire da 6 e fino a 9 euro. Bene, è tutto per questa nostra edizione, tutto anche per questo anno 2014, noi vi diamo appuntamento a venerdì con l'ultima edizione anche del nostro speciale culturale che vi porterà a scoprire tutto quel che accade in città nel periodo di Natale e di Capodanno, noi non resta che augurarvi un buon Natale, un felice anno nuovo, ci rivediamo a gennaio 2015.